brevissima pausa pubblicitaria allora tra qualche istante il nostro ospite c'è verifichiamo appunto che sia tutto in ordine il collegamento audio video e preannunciamo appunto l'argomento di cui parleremo oggi vi presenteremo un libro edito da terre di mezzo il cammino di san francesco di paola scritto a tre mani da angelina marcelli vincenzo storino alessandro mantuano faremo questo percorso insieme questa mattina allora ci colleghiamo proprio con la professoressa angelina marcelli docente universitaria che ci racconterà il cammino di san francesco di paola buongiorno professoressa benvenuta buongiorno allora un desiderio di ciascuno appunto dei tre coautori di questo libro diventato concreto quando le vostre strade solitarie poi si sono incontrate e incrociate allora ci racconti qual è stata la genesi di questo cammino la prima grande spinta di questo progetto avviene grazie ai tre diatori che sono alessandro mantuano vincenzo storino e riccardo tormino sono un gruppetto di amici che amano l'escursionismo e che notando tantissimi segni presenti sul territorio che riconducono a san francesco di paola hanno questa magnifica intuizione che è stato il cammino da subito il cammino ha un successo che loro stessi non si aspettavano diciamo che il mondo dei cammini è diventato più attraente il nostro forse ha una marcia in più che è proprio la storia di san francesco io mi unisco a loro proprio per dare una mano con la ricerca storica con la comunicazione e anche con l'accompagnamento dei pellegrini nei luoghi del santo fondamentale è stata anche la presenza di padre domenico pudia dell'ordine dei minimi che è la nostra guida spirituale si occupa anche dell'accoglienza dei camminatori al santuario diciamo che il vero progettista è proprio san francesco il nostro compito è stato quello di decodificarlo e renderlo fruibile e allora professoressa ci aiuti a capire un po le virtù di san francesco di paola che uno dei santi più amati dagli italiani se vogliamo davvero venerato poi in calabria ecco c'è una devozione davvero molto molto particolare ci può tracciare un profilo umano e spirituale del santo diciamo è abbastanza difficile fare una sintesi anche perché è un santo che è stato molto longevo tutto 91 anni mi limiterò a una breve riflessione che metta in evidenza solo alcuni tratti della sua vita che è una vita costellata da avvenimenti apparentemente discordanti giovanissimo lui matura una vocazione da eremita il suo desiderio che comunica i genitori è quello di vivere solo con dio eppure dopo qualche anno lo troveremo fondatore dell'ordine dei minimi ancora lui sceglie una una vita molto asciutta austera proprio nel ventre della nuda terra in grotte che lui stesso scava per amore della povertà di cristo di della povertà di cristo eppure finisce i suoi giorni alla corte del re di francia dove è costretto a trasferirsi perché luigi undicesimo smuove tutta la diplomazia italiana arriva fino anche al papa pur di averlo nella speranza di essere guarito e ancora diciamo che la sua spiritualità è fortemente quaresimale tanto che i suoi frati professano il quarto voto di vita quaresimale appunto lui stesso vive di penitenze di preghiere e soprattutto di prolungati digiuni sempre nel nascondimento eppure è considerato il santo dei grandi prodigi compie dei segni talmente prodigiosi che in realtà richiamano la potenza del cristo risorto un po a volerci ricordare che la quaresima e la preparazione alla pasqua sono inscindibili ho parlato di apparenti discordanze ma a leggere a fondo la sua vita risalta piuttosto la coerenza perché bisogna leggere tutto alla luce della sua determinazione di fare la volontà di dio perciò lui di volta in volta si interroga ed è disposto a stravolgere i suoi piani molto interessante la ringrazio anche per la sintesi insomma è riuscita a tracciare anche con poche frasi un importante profilo di san francesco di paola un cammino quello che voi illustrate in questo libro che davvero può essere inteso come una biografia su mappa le vie sono sei ecco le vediamo qua proprio in una cartina riportata all'interno del libro però non tutte sei sono fruibili allora ci accompagni per mano lungo questi questi sentieri professoressa marcelli sì allora il cammino il nostro cammino si compone di queste di queste vie ogni via è un viaggio intrapreso da san francesco con delle particolari motivazioni attualmente sono fruibili la via del giovane la via dell'eremita che sono descritta all'interno di questa di questa guida che si si muovono nell'area della catena costiera quindi nella zona del tirreno cosentino e si muovono in meravigliosi boschi di faggio il a fa soprattutto a facci bellissimi che dalla dalla cima da cime anche abbastanza alte e consentono di vedere il mare ma poi si attraversa che so la cultura al bresci i pianori di marano insomma è un un ambiente molto molto eterogene anche fruibile la via dei monasteri che congiunge paterno con corigliano rossano è così esattamente questa e a breve sarà anche sarà anche fruibile la via per la francia che ci porta verso il pollino sia esattamente questa e quindi diciamo che stiamo stiamo crescendo speriamo che possiamo comunque portare a compimento tutto quanto il progetto senta professoressa voi consigliate anche di visitare paola che poi insomma vuole essere anche una sorta di gerusalemme potremmo dire così il punto finale allora sì non a caso noi l'abbiamo chiamato il chilometro zero zero non tanto come il come origine ecco come ci dà l'idea dell'origine la visita di paola soprattutto del santuario è fondamentale per la comprensione proprio della della vita del santo che si capisce meglio proprio nei luoghi sono dei luoghi che hanno un un potere di comunicare la sua spiritualità quindi sarebbe davvero un peccato non non trascorrere un po di tempo nella visita del santuario ma anche della stessa città dove e comunque c'è la casa natale quindi il quartiere dove dell'infanzia di san francesco ma anche la parte la parte nuova della città è bella da visitare poi soprattutto se consideriamo che il cammino viene fruito da tantissimi nei mesi estivi ecco varrebbe anche la pena fermarsi anche qualche giorno al mare noi abbiamo un lungo ma è molto ben attrezzato quindi consente anche questi diciamo questa bella pausa per rifocillarsi dalle fatiche del cammino per rigenerarsi c'è una frase molto bella riportata nel manifesto realizzato dalla rete dei cammini del sud leggo a pagina 22 crediamo nel ruolo fondamentale che il camminare può esercitare per innescare strategie di sviluppo sostenibile e aumentare la qualità della vita di ogni singolo individuo crediamo che camminare camminare a sud abbia un valore sociale una valenza politica un impegno che anche resistenza contro ogni abuso contro ogni deturpazione nella civiltà nella complessità noi camminiamo che cosa ha significato per lei questa esperienza professoressa che cosa ha potuto scoprire o riscoprire allora guardi io penso di poter parlare al plurale nel senso di essere portavoce anche della di tutti gli amici della dell'associazione perché entrare in questo progetto da calabresi ecco ci ha dato sicuramente una maggiore consapevolezza della nostra identità culturale e religiosa abbiamo capito di avere la responsabilità di raccontare il volto bello della calabria spesso la calabria è legato a fatti di cronaca tutt'altro che belli eppure esiste questo volto molto bello che non solo è la natura ma è soprattutto l'ospitalità quindi le qualità umane abbiamo anche capito che le cose possono cambiare e che la spinta dal basso come quella che ha innescato questa associazione è potentissima che quindi da una piccola cosa si può smuovere anche una microeconomia che riesce a dare dignità dei luoghi forse dimenticati e abbiamo anche imparato in fondo a credere alla provvidenza quindi sì diciamo che nella civiltà della complessità noi abbiamo scelto di camminare e come diciamo spesso lo facciamo a piccoli passi e sempre seguendo il sole bene grazie professoressa per essere stata con noi tra l'altro paola stiamo facendo anche noi un bel cammino alla scoperta dei cammini ecco perdonate un po la il gioco di parole perché la professoressa sicuramente non lo sa ma noi venerdì siamo stati in giro per l'europa alla scoperta delle abbazie oggi ritorniamo in italia domani saremo da un'altra parte insomma evviva l'italia e l'europa dei cammini nel segno della cristianità grazie professoressa per essere stata con noi grazie grazie vorrei ricordare nuovamente il titolo del vostro libro a tre mani il cammino di san francesco di paola terra di mezzo editore di angelina marcelli vincenzo astorino è architetto insegnante presidente dell'associazione escursionisti appennino paolano e alessandro mantuano guida ambientale presidente dell'associazione il cammino di san francesco di paola grazie davvero e buon cammino a voi anche a noi bene andiamo in pubblicità facciamo qualche minuto di pausa e poi saremo ancora insieme